Quando uscì per strada fu colto da un'improvvisa paura perché sapeva di emanare un odore umano per la prima volta in vita sua. A lui però sembrava di puzzare, di puzzare in modo assolutamente ripugnante e non riusciva a figurarsi che altri non trovassero ugualmente ripugnante il suo odore e non osò dirigersi subito verso l'osteria dove Runeil e il maggiordomo del marchese lo stavano aspettando. Gli sembrava meno rischioso sperimentare prima la nuova aura in un ambiente anonimo. Scivolò per i vicoli più stretti e più bui, giunse verso il fiume dove i conciatori e i tintori avevano i loro laboratori ed esercitavano il loro mestiere puzzolente. Quando incontrava qualcuno o quando passava accanto all'ingresso di una casa dove stavano giocando bambini o erano sedute vecchie donne si costringeva a rallentare il passo e a portarsi attorno in tal modo il proprio odore in una grande nuvola compatta. Fin dall'infanzia era abituato al fatto che le persone che gli passavano accanto non lo notavano in alcun modo, non per disprezzo come aveva creduto un tempo ma perché proprio non si accorgevano della sua esistenza. Non c'era stato spazio attorno a lui, non onda che lui come altre persone mandasse nell'atmosfera. Non c'era stata ombra, per così dire, che avesse potuto gettare sul volto degli altri. Soltanto quando si era scontrato direttamente con qualcuno nella folla o d'improvviso a un angolo di strada c'era stato un breve istante di percezione e in genere chi era stato urtato si ritraeva con orrore. Fissava lui Grenoy per pochi secondi, come se avesse visto un essere che in realtà non sarebbe dovuto esistere, un essere che sebbene fosse innegabilmente lì in qualche modo non era presente e subito prendeva a largo e dopo un attimo si era già dimenticato di lui. Ma ora, nei vicoli di Montpellier, Grenoy avvertì e constatò con chiarezza e ogni volta che lo constatava era pervaso da un forte sentimento d'orgoglio che esercitava un effetto sulle persone. Quando passò accanto a una donna, china sul bordo di una fontana, notò che essa alzava un attimo il capo per vedere chi fosse e poi evidentemente tranquillizzata si volgeva di nuovo verso la propria secchia. Un uomo che gli dava le spalle si girò e lo seguì con lo sguardo, a lungo, con curiosità. I bambini che incontrava si facevano indietro, non per paura, ma per fargli posto. E anche quando uscivano di corsa dall'ingresso laterale di una casa e urtavano bruscamente contro di lui, non si spaventavano, ma sgusciavano via con naturalezza, come se avessero avuto il presentimento della sua persona che si avvicinava. Dopo molti di tali incontri, imparò a valutare con maggior precisione il potere e l'effetto della sua nuova aura e divenne più sicuro di sé e più audace. Camminava più in fretta verso le persone, passava vicinissimo a loro, spingeva persino il braccio leggermente in fuori e sfiorava come per caso il braccio di un passante. Una volta, apparentemente per distrazione, detto uno spintone un uomo che voleva sorpassare. Si fermò, si scusò e l'uomo che solo il giorno prima sarebbe stato colpito dall'apparizione improvvisa di Grenouille come dal fulmine, si comportò come se nulla fosse accaduto, accettò le scuse, fece persino un breve sorriso e gli dette un colpetto sulla spalla. Grenouille abbandonò i vicoli e arrivò sulla piazza davanti al duomo di Saint-Pierre. Le campane suonavano, la gente si affollava entrambi i lati del portale. Stava giusto finendo una cerimonia di matrimonio. Volevano vedere la sposa. Grenouille accorse e si mescolò alla folla, diede spintoni, si insinuò, voleva andare dove le persone erano più fitte. A contatto di pelle voleva averle, voleva sfregare il proprio profumo direttamente contro i loro nasi. E in quello spazio angusto e stipato allargò braccia e gambe e si slacciò di scatto il colletto affinché il profumo potesse fuoriuscire liberamente dal suo corpo. E immensa fu la sua gioia quando si accorse che gli altri non si accorgevano di nulla, assolutamente di nulla, che tutti quegli uomini, donne e bambini pigiati attorno a lui si potevano ingannare così facilmente che inalavano il suo puzzo raffazzonato di merda di gatto, formaggio e aceto come l'odore di un loro simile e che accettavano lui, Grenouille, la prole del diavolo, in mezzo a loro come uomo tra gli uomini. Sentì vicino alle ginocchia una bimba, una bambina piccola che si era infilata tra gli adulti. La sollevò con finta premura e la prese in braccio perché potesse vedere meglio. Non soltanto la madre lo tollerò, ma lo ringraziò e la piccola dette grida di gioia. Così Grenouille restò per un quarto d'ora in seno alla moltitudine, tenendo una bimba estranea contro il suo petto ipocrita. E mentre sfilavano i partecipanti alle nozze accompagnati dal suono rimbombante delle campane e del giubilo della folla, sopra la quale scrosciava una pioggia di monete, in Grenouille erruppe un altro giubilo, un giubilo funesto, un malvagio senso di trionfo che lo fece tremare e lo inebriò come un attacco di lussuria e fece fatica a non farlo schizzare su tutta quella gente come bile e veleno e a non gridare in faccia a tutti esultando che non aveva paura di loro, anzi neppure quasi li odiava, ma che li disprezzava con tutto il suo ardore. Perché erano stupidi puzzoni, perché si lasciavano raggirare e ingannare da lui, perché essi non erano nulla ed egli era tutto. E in segno di scherno strinse più forte la bimba contro di sé, si fece largo e gridò ancora con gli altri, viva la sposa, salute alla sposa, salute alla splendida coppia. Quando i partecipanti delle nozze si allontanarono e la folla cominciò a diradarsi, restituì la bimba alla madre e si recò in chiesa per riprendersi dalla sua eccitazione e per riposarsi. All'interno del duomo l'aria era satura d'incenso che fuoriusciva in freddi vapori da due turiboli ai lati dell'altare e si stendeva come una cotre soffocante sugli odori più delicati delle persone che erano appena state sedute in quel luogo. Grenoel gli sedette su un banco sotto il coro. D'un tratto lo sopraffece una grande contentezza, non ebbra come quella che aveva provato un tempo in seno alla montagna durante le sue orge solitarie, bensì una contentezza molto fredda e sobria, quale quella prodotta dalla consapevolezza del proprio potere. Adesso sapeva di che cosa era capace. Con mezzi estremamente scarsi, grazie al proprio genio aveva ricreato il profumo dell'uomo e aveva centrato così bene al primo tentativo che anche un bambino si era fatto ingannare da lui. Adesso sapeva che poteva fare ancora di più, sapeva che poteva migliorare quel profumo. Avrebbe potuto creare un profumo non soltanto umano, bensì sovrumano, un profumo angelico così indescrivibilmente buono e vitale che chi l'avesse annusato ne sarebbe stato affascinato e avrebbe dovuto amare con tutto il suo cuore lui, Grenouille, il portatore di quel profumo. Sì, amarlo dovevano quando erano soggiogati dal suo profumo, non soltanto accettarlo come un loro pari, amarlo fino alla follia, all'abnegazione, tremare d'estasi dovevano, gridare, piangere di gioia senza sapere perché, in ginocchio dovevano cadere, come sotto il freddo incenso di Dio, non appena sentivano l'odore di lui, di Grenouille. Voleva essere il Dio onnipotente del profumo, così come lo era stato nella sua fantasia, ma ora nel mondo reale e regnando sugli uomini reali, e sapeva che ciò era il suo potere. Poiché gli uomini potevano chiudere gli occhi davanti alla grandezza, davanti all'orrore, davanti alla bellezza, eturarsi le orecchie davanti a melodie e o a parole seducenti, ma non potevano sottrarsi al profumo, perché il profumo era il fratello del respiro. Con esso penetrava negli uomini, a esso non potevano resistere se volevano vivere, e il profumo scendeva in loro, direttamente al cuore, e là distingueva categoricamente la simpatia dal disprezzo, il disgusto dal piacere, l'amore dall'odio. Colui che dominava gli odori dominava i cuori degli uomini. Del tutto calmo, Grenouille stava seduto sulla panca del Duomo di Saint-Pierre e sorrideva. Non era in uno stato d'animo euforico quando aveva concepito il progetto di dominare gli uomini. Non vi era alcun guizzo di follia nei suoi occhi, e non una smorfia insensata deformava il suo viso. Non era fuori di sé. Era così limpido e sereno di spirito che si chiese perché poi voleva farlo. E si disse che lo voleva perché era malvagio fino alle midolla. E questo lo fece sorridere, ed era molto contento. Aveva un'aria del tutto innocente, come una persona qualsiasi che è felice. Rimase seduto così ancora un poco in reverente silenzio e inspirò a pieni polmoni l'aria satura d'incenso. E di nuovo sul suo volto passò un lieve sorriso di compiacimento. Che odore scadente aveva questo Dio! Com'era ridicolmente mal combinato il profumo che questo Dio emanava da sé. Non era nemmeno vero profumo d'incenso quello che esalava dai turiboli. Era un cattivo surrogato, adulterato con legno di tiglio e polvere di carnelle e salnitro. Dio puzzava. Dio era un povero puzzoncello. Veniva ingannato questo Dio, oppure lui stesso era un impostore. Non diversamente da Grenoy, soltanto molto peggiore. Il marchese della Théiade Spinassi era entusiasta del nuovo profumo. Anche per lui, disse, scopritore del fluidum letale, era sorprendente constatare l'enorme influenza che esercitava sulle condizioni generali di un individuo una cosa insignificante e fugace come un profumo, a seconda che la sua provenienza fosse legata alla terra o lontano da essa. Grenoy, che soltanto poche ore prima era pallido ed era stato prossimo a uno svenimento, aveva un aspetto fresco e fiorente come qualsiasi altro uomo sano della sua età. Anzi, si potrebbe dire che, con tutti i limiti accettabili per un uomo del suo ceto e della sua scarsa cultura, aveva acquisito qualcosa di simile a una personalità. In ogni caso, lui, Théiade Spinassi, nel capitolo riguardante la dietetica vitale del suo trattato di prossima pubblicazione sulla teoria del fluidum letale, avrebbe dato comunicazione dell'avvenimento. Ma ora, per prima cosa, voleva profumarsi con il nuovo aroma. Grenoy gli porse i due flacconi, con il profumo di fiori convenzionale, e il marchese se lo spruzzò addosso. Si mostrò molto soddisfatto dell'effetto. Dopo essere stato oppresso per anni da quel terribile aroma alla violetta come da piombo, confessò. Si sentiva quasi come se gli spuntassero ali di fiori, e se non sbagliava, l'atroce dolore al ginocchio come pure il rombo alle orecchie erano diminuiti. Nell'insieme si sentiva pieno di slancio, tonificato e ringiovanito di qualche anno. Si avvicinò a Grenoy, lo abbracciò e lo chiamò mio fratello fluidale, aggiungendo che non si trattava affatto di un titolo mondano, bensì puramente spirituale, in cospetto universali fluidi letalis, di quale, di fronte alla quale, di fronte alla quale soltanto, tutti gli uomini erano uguali. Progettava anche, e disse questo staccandosi da Grenoy, in verità molto amichevolmente, con nessuna ripognanza, quasi come staccandosi da un suo pari, di fondare al più presto una loggia internazionale sovracoperativa, il cui scopo doveva essere quello di sgominare totalmente il fluidum letale e di sostituirlo in brevissimo tempo con fluidum vitale, puro, e già fin d'ora prometteva di acquisire Grenoy come primo proselito. Poi si fece scrivere su un foglio la ricetta per il profumo di fiori, la intascò e regalò a Grenoy 50 Luigi d'oro. Esattamente una settimana dopo la sua prima conferenza, il marchese della Toyade Spinasse ripresentò il suo protetto nell'aula dell'università. L'affollamento era enorme, tutta Montpellier era venuta, non soltanto quella scientifica, ma anche e soprattutto la Montpellier mondana, e vi erano molte signore che volevano vedere il favoloso uomo della caverna. E sebbene gli avversari di Toyade, principalmente rappresentanti del circolo di amici dei giardini botanici dell'università e membri della società per la promozione agricola, avessero mobilitato tutti i loro sostenitori, la manifestazione fu un successo fulminante. Per ricordare al pubblico lo stato di Grenoyle della settimana precedente, da prima Toyade e Spinasse fece circolare disegni che mostravano l'uomo della caverna in tutta la sua bruttezza e degradazione. Poi fece introdurre il nuovo Grenoyle con la sua bella giacca di velluto blu e camicia di seta, imbellettato, incipriato e pettinato. E già il modo in cui camminava, cioè ritto e con passi aggraziati ed elegante movimento d'anca, il modo con cui raggiungeva il podio senza nessun aiuto da parte altrui, si inchinava profondamente facendo cenno ora qui ora là con un sorriso, fece ammutolire tutti i dubbiosi e i critici. Anche gli amici dei giardini botanici dell'università attacquero sconfitti. Troppo clamorosa era la trasformazione, troppo sconvolgente il miracolo che qui si era palesemente verificato, dove la settimana prima si era acuciato un animale spelacchiato, imbarbarito, adesso stava ritto, un uomo davvero civilizzato con un bel personale. Nella sala si difuso un'atmosfera quasi solenne e quando Tejade Spinass dette inizia la conferenza regnava un silenzio totale. Edi sviluppò ancora una volta la sua teoria sufficientemente nota del fluidum letale proveniente dalla terra. Spiegò poi con quali mezzi meccanici e dietetici l'avesse scacciato dal corpo del dimostrante e sostituito con fluidum vitale. E infine esortò tutti i presenti amici e nemici a deporre la resistenza contro la nuova dottrina di fronte a una simile schiacciante evidenza e a combattere il fluido malefico unitamente a lui, Tejade Spinass, a prendersi al buon fluidum vitale. A questo punto allargò le braccia e levò gli occhi al cielo e molti degli studiosi lo imitarono e le donne piansero. Grenoy era rito sul podio e non ascoltava, osservava con la massima attenzione l'effetto di un fluidum totalmente diverso, molto più reale, il proprio. Relativamente alle esigenze spaziali dell'aula aveva messo una grossa quantità di profumo e non appena era salito sul podio l'aura del suo aroma si era irraggiata potentemente da lui. La vide, in effetti la vide proprio con i suoi occhi, cogliere gli spettatori che sedevano in prima fila, diffondersi poi all'indietro e raggiungere infine le ultime file la galleria. E chi ne era toccato, a Grenoy balzò il cuore in petto dalla gioia, si trasformava visibilmente in balia del suo profumo, ma senza esserne consapevoli gli uomini mutavano l'espressione del volto, l'atteggiamento, i sentimenti. Che prima si era limitata a guardarlo a bocca aperta, con grande stupore, ora lo guardava con occhi più miti. Chi era stato immobile, appoggiato alla spalliera della sua sedia, con la fronte corrugata in atteggiamento critico e gli angoli della bocca significativamente all'ingiù, ora si sporgeva più liberamente in avanti con un'espressione rilassata da bambino. E persino nei volti degli ansiosi, degli spaventati, dei più sensibili, che avevano sopportato il suo precedente aspetto solo con orrore e sopportavano il suo aspetto attuale ancora con il dovuto scetticismo, apparivano tracce di cordialità, anzi di simpatia, quando il suo profumo li raggiungeva. Alla fine della conferenza tutta l'assemblea si alzò e proruppe in frenetico giubilo. Viva il fluidum vitale! Viva Théliade Spinas! Viva la teoria fluidale! Abbasso la medicina ortodossa! Così gridavano i dotti di Montpellier, la città universitaria più importante del meridione francese, e il marchese della Théliade Spinas visse l'ora più celebre della sua vita. Ma Grenoil, quando scese dal podio e si moscolò tra la folla, sapeva che in realtà le ovazioni erano dirette a lui, soltanto a lui, Jean-Baptiste Grenoil, anche se nessuno di coloro che esultavano in sala lo sospettava.